Oggi siamo partiti da Villanova a Monferrato, paese che si è vestito a festa per ospitare il Giroen. Tutti in piazza, compreso anche il Vivescovo, è venuto a trovarci e a salutarci. È stata una bellissima emozione vedere tutta questa passione per un evento così nuovo. Siamo partiti per i 60 km del percorso, pianeggiante che ci ha portati fino a qui a Novara. Una tappa tranquilla anche se abbiamo giocato un po' sugli sprint vicino al traguardo e poi al traguardo. Domani il meteo sembra cambiare in peggio, speriamo non troppo perché abbiamo una bellissima tappa movimentata da Alba a Canale. Vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.